Credo sia arrivato il momento di tornare a casa Ora, il discorso è Che cosa ci manca? Perché, sì, andiamo a casa di Sindri Ci prepariamo per la guerra Ma ci sono delle cose che io non posso fare ora E che quindi molto probabilmente mi sbloccherà Siamo sicuri che Freya sia ancora a casa? Adesso Odino ha usato l'ingresso sul retro anche come uscita Senza il dannato corvo nascosto nello sgabuzzino La casa dovrebbe essere sicura E nella sua vendetta non rifiuterà gli alleati Già, ora è la vendetta di tutti E non ci saranno Tyrfasulli a sabotarci le menti Ah, come ha schernito il desiderio di pace di Tyr Eh già E il mio Se ne ha approfittato di quello e E li credavamo, tutti li abbiamo creduto Eh già Ehm Manca un Dove è il rosso l'arroganza? Le mie più sentite condoglianze Dove è l'arroganza? Non c'è l'arroganza? Vabbè Andiamo Sono con voi Il momento per cosa, Di Grazia? Il momento di unire i regni contro Odino Una volta per tutte Tyr ha cercato di unirli Il vero Tyr Era ben voluto Ma persino lui ha fallito Allora non possiamo fallire O non rimarrà nessuno a poterci riprovare Questo è il Ragnarok E Odino conosce già tutti i nostri maledetti piani Certo, abbiamo perso l'elemento sorpresa Oltre a questo c'è un'unica via per Asgard E non passeremo inosservati Il Ghyanarorn Significa che entriamo dal Tempio di Tyr, qui Il muro di Asgard è qua giù Gli Einarir saranno schierati a presidiare lo spazio tra i due E che significa che ci servono eserciti? Tutti quelli che vorranno accorrere Armate che Odino non si aspetta Solo per raggiungere il muro Per poter aprire una breccia Noi dobbiamo trovare Surtor Rattatosker ci ha procurato questo Uh, un seme Andremo noi tre Io so dove cercare Splendido Alleati dunque Su chi possiamo contare? Io andrò a Eilheim Per reclutare l'armata dei morti E io tornerò ad Alfaim Per unire gli Elfi Niente di meno Vuoi riuscire a unire gli Elfi dopo secoli di guerra? Beh, mi amano molto Gli hanno fatto la stato a lui E tu? A Valheim? Sì Per cercare Sigrun e radunare le Valkyrie Mi devono una esercita Né Nifelaim né Jotenaim Rimane solo Svartalfaim Eh Vado io a Svartalfaim Sì Sindri Sì Sindri Ho detto che vado Era quello che dicevo l'altra volta Cioè Anche se non ci perdona Va bene Cioè È capibile Si può Si può capire il perché insomma Però Appunto Che lo faccia solo per Brock È tanta roba Grande Sindri Fortissimo Lunda Si va a Muspelheim In cerca dell'ultimo gigante del fuoco Quasi invidio le ardue imprese altrui Muspelheim Allora Cara Due livelli per Liviatano E non è tutto Perché ci manca ancora il 9 Quindi mi manca ancora una fiamma Poi Non abbiamo Troppissimo Argento Effettivamente È tanto Ma non troppissimo Mi manca ancora un potenziamento di quella Qualcosa possiamo fare Vabbè Questa che è equipaggiata To Pugniture da guerra rinforzate E C'è tutta un'altra roba che si può fare in realtà Allora andiamo un po' Boh Sì Mi sono messo l'armatura Delle stelle Cadenti Non mi ricordo come si chiama Tipo tutta dorata È bellissima E poi boh Cioè alla fine ho perso un po' di ricarica Però ho guadagnato del runico E della vitalità Quindi Perché no Muspelheim Allora Muspelheim Mi interessa Perché appunto Non riuscivo a completarlo Mi mancano i corvi Mi manca un sacco di roba Quindi si va Ah è quella parte lì E quella parte lì Noi non ci potevamo Te le trasportare lì Perché Ci eravamo andati con Atreus Ma con I corvi Quindi sai dove cercare Surtur Già Ho svelato i segreti del suo altare Mentre ero a Muspelheim con Thor Thor Tranquillo Non mi ha visto entrare Mi preoccupa altro C'era anche Angerdob 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 Maria Il Ragnarok Non il Ragnarok Scusa Ragnarok Che è proprio un'entità Perché mi mi ridice un no? Lui sa Vabbè Più sapiente Ho alcuni Dubbi relativi alle negoziazioni Con Rasvelger e Eilail Sono convinto che Potrebbe essere più propensa A parlare con un membro dei Morti Mimir C'è bisogno di te Oh La morte ora è un'abilità? Immagino che questi due Potranno cavarsela da soli Fratello Se non ti dispiace D'accordo Molte grazie Con voi ci vediamo dopo Credo Rasvelger quindi è là Dovrei riuscire a scorgere La fucina di Surtur Perché dovrei andarci In realtà Mi pare di aver capito Che tipo Dovevo andare a Rasvelger Non mi ricordo per cosa Però se non mi ricordo male Dovevo andarci Sì Annifelaim Aspetta Beh che bellezza Adesso possiamo raccogliere tutto Allora Facciamo piazza pulita Chiaramente Così qua In teoria Non ci torniamo Vediamo più che altro Dico in teoria Perché Non mi capisco Queste si possono congelare? No? Troppo caldi Quindi Quindi Il fatto è Occhi aperti Come diceva un signore Anziano Chi è? Aspetta che cosa? Ascoltami un attimo Ascoltami Guardalo Guarda 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 Io faccio una strage Sono felice di rispedire quei corvi a Nifelaim Siete gli ultimi Chi è? Allora Siete gli ultimi Me ne mancano due Ma chi? Di chi sta parlando? Dei corvi? Stavamo parlando dei corvi No? Di rispedire i corvi Sì? Salve? Che fate qua? Aspetta Ehi Dai Per favore Facciamo un attimo In un permesso Te sei quello che mi dà un po' più Un po' più fastidio Non è un problema Mentre stavo cercando Anche di Quando facevo le sfide a Nifelaim Stavo cercando di Portare le cose oro Sono già stato qui E quella volta ho visto qualcosa che sembrava una fucina Questo? Chi è? Ok Tutte le mosse varie Combo Abilità di Kratos Eccetera Stavo cercando di farle oro Mi piacerebbe Farle oro Però non so se Molto Fattibile come cosa Sì sì qua c'eravamo arrivati Non so se è molto fattibile come cosa Perché sono tante E Pi che altro Avrei dovuto iniziare già a farle prima Nel caso non ci volessi aiutare Pronti? La profezia dice che lui e Simmara si uniscono Ma chissà ora cosa penseranno Vorresti provare a sottomettere questi esseri primordiani Beh Non so La guerra non si vince senza di loro Giusto? Mi ho visto Ehi Chi sbatte? Siamo vicini Riesco a sentire la cucina Vai vai Non te senti Senti pure la cucina Fai quello che vuoi Io sento che c'è una nornanna Nornanna Ormai le chiamerò nornanne per sempre E Allora vediamo un po' Uno E Che cacchio di rumore era? Ok Vediamo un po' Buono Due Oh se questo la faccio easy Godo eh Vuol dire che la vita mi ha insegnato Allora uno Bene Ecco qua Non vuol dire che la vita mi ha insegnato Perché non ci ho capito comunque un cacchio Ma va bene Allo stesso Era per dire perché non pensavo di farcela Va bene E Oh guarda lì come Come vengono completati Godo Mi manca un corvo Un appunto E c'è quella roba non scoperta Io sento sbattere il ferro Mi sembra Se c'è l'unda Fantasma del fuoco Ah va bene Non credo sia un problema Tra l'altro del fuoco Vieni vieni Con tre cose poi Mi dispiace poverino Due Eh due Eh due se vi abbiamo un giorno Uno là Ok Chissà perché Solo Solo alcuni Cioè questo è di È di storia poi Questo è di trama B Occhio Eh vabbè Tutto a posto Non ti preoccupare Aspetta Che è successo Pensavo facessi un altro attacco Questo è di storia Quindi in teoria Perché non Non metterlo forte Cioè potevano Poteva riempire tutta la zona Che bastardi Era quella che volevo rompere Ok Oh godo Vieni fuori Percettina No Non capisco mai Cioè perché praticamente Per far partire La finish him Devi dargli un colpo Questa roba Non lo capisco Però vabbè Ci può stare Cioè non è Non è questo il fatto È che Vabbè Però non Non lo capisco Perché Tipo alcune frecce Vanno bene Altre no Io sentivo qualcosa Ma sono lo stesso Sono quei robi Mi sa Non dobbiamo perderci Il corvo È il corvo Il problema Deve essere lui Che andiamo Deve essere lui Lo sento Cioè lui Lui la chi Lui Ma chi è Surtur Lo sentite il corvo Non sono pazzo Vero Fucina di Surtur Ah c'è lui il corvo Ho capito Però qua ci dovrebbe essere Un appunto Io non voglio perdere Niente raga Molto probabilmente Dopo dobbiamo tornare Indietro Quindi non è quello Però non voglio Togliere niente Cioè per non rischiare Vorrei portare via Tutto adesso No ma c'è tempo Sì 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 C'è anche il non scoperto C'è tutto quel non scoperto Che non capisco Cosa vuol dire Quindi Sicuro Non preoccupiamoci Dicevo che la lanciava Direttamente A Surtur In testa Tattattà Ehi là Surtur Bello Dezio Dove cacchio sei Maledetto Ma lì si può andare Sì No Non ora Bello Tra l'altro Guarda le spade Tutte uguali Salve Salve Cerchiamo un gigante Andate Che cos'è successo Ehi non sei stato Prima tocca a loro Loro chi? Porca vacca Ma così? Aspetta Sì 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 Eh noi Noi entriamo con la forza Occhio Disse quello che ha appena esploso Merda ma è doppio Aspetta 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 Poglia Due mangianime Dai che questo è morto Eh attraverso dividermi una mano Dai che è morto Porca Coggiuda Aspetta 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 Devo fare una roba Gratos Recupera 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 Chiano cacchio Ok Ok Dai che è morto Uff Oh rischiamo così già di botto Non mi mandare un altro Eh per favore Wow Se quello è Surtur Avrà molto di cui rispondere Come hai detto Lui ci serve Adesso è ritorno da lui Oh Fiamma del caos Godo Ha cambiato zona Io non vi aiuterò Tu chi sei Sono chi cercate Quello che ne è rimasto Perché non ci vuoi aiutare? Io non voglio farlo Spiegati meglio Noi moriremo Hai ragione Perché hai tante cose Per cui vivere Io no Lei A cosa serve tutto questo? Te ne stai lontano da Sinmara Solo per Attendere qui la morte? Almeno se ti unissi a lei Sareste di nuovo insieme? Noi siamo insieme Ho il suo cuore E lei ha il mio Non è molto Ma è abbastanza Ma tu non sei nemmeno C'è lei di ghiaccio? Innamorato È molto bello Lei è un gigante di ghiaccio E lui è un gigante di fuoco? Così Odino vincerà E tutti i regni Tranne Asgard Cadranno Già Lui deve morire È vero Ma io non sacrificherò lei Così come tu Non sacrificheresti lui Spiacente Vieni Aspettate Quelle lame Potrei vederle Quelle lame Sì C'è il fuoco primordiale In loro Non sono di queste terre Non importa Sì Può funzionare Che cosa? Vinite con me Filale Qui dentro E io diventerò Il tuo mostro Ma non voglio che lei sia coinvolta assolutamente Ma la profezia dice che voi dovete essere uniti insieme Sicuro che funzioni? Non ho altro per cui vivere Non qui Seguitemi Dove andiamo? Scintilla del mondo Ossia Il luogo dove Nifelaim e Muspelaim si incontrano Dove nacquero i primi regni E qua non riuscite a passare Eh? Ah c'è eh? Non puoi sciogliere tutto Sempre io Meglio che camminare Che cosa ci attende A questa scintilla del mondo? Magia Roba primordiale Con quella Le tue lame Il mio cuore Andrà tutto bene Divento Grosso Spacco tutto Vi piacerà? Ma che succede quando cambi? Non lo so Si prende per delle scimi Tipo Uomo forte Grosso caccia Ma tu Oh Il nuovo te Come saprete Quando attaccare Asgard? Hai il corpo Vero? Già Allora siamo a posto Che effetti ne prive? Vuoto Forte Forte Merda Scintilla del mondo Ma è Bellissimo Ci vediamo di là Sembra una scemenza Odino sa del ghialla Rorna Sa che hai la maschera Ha ucciso Brocca E sa che avremmo cercato Surtur Per iniziare questa guerra Ma che altra scelta abbiamo? Nessuna Sa anche quello Non c'era zona? Ma è tipo una galassia Quindi quella Di là c'è tipo Niflheim E di qua appunto c'è Musferheim Perché mi stanno dando da ricaricare la vita? Più che altro Aspetta va Mi fa pensare a tipo Non siete voi ad avere fretta Sì sì Che lui se ne esce e fa Ok però per Per avermi qui Per avere questo dovete combattere contro di me Non avrebbe senso Per comunque ti stanchi Quando è inevitabile Di starle alla larga Lo promettiamo Surtur Pugnalarti con le lame Sarà sufficiente a creare questo nuovo te Il cuore di Simmar è freddo Splendidamente freddo Ora tuo padre ha il mio fuoco nelle lame Se in lei entrerà abbastanza di me e della scintilla Allora funzionerà Allora funzionerà Venite Questa Gotcha Allora funzionerà Allora funzionerà È qualcosa di super È qualcosa di più Allora funzionerà L'abbiamo Allora funzionerà Allora funzionerà La sua Lame! Spostati! Questo farà male. Adesso, la parte davvero dolorosa. Il mio fuoco e il suo cuore. Unendoli insieme, avrai Ragnarok. Ci siamo. Con le lame del suo fuoco. Quanto pensi che ci vorrà? Oh, ma allora... Le avrà mandate Udino! Sono ri... Eh, sì, quelle... Merda! Sono quelle che aveva mandato la tizia. Stanno subendo danni entrambe. Erano le cose. Com'è che si chiamano? Le tizie di Sif. Le aveva mandate lei? Aspetta. Ma raga, ma hanno la vita insieme? Ma copiate in questo modo? Si sono ricaricate. Merda! No, è scriptato. Aiuto! Poi, non volevo tirargliela... Non pensavo che gliela tira sia in automatico. Ah, beh, scendono. Ok. No, no, va bene. Aspetta. Non volevo. Non volevo. Eeeh... Ma le Valkyrie... Fanno la vita insieme, ok? Ancora. Porca vacca. Oh, 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 oh. Cacchina, gli ha tirato... C'era il sangue. Va bene. Sì? Forse con la lancia? Con la lancia devo fare qualcosa? Beh, comunque per ora non mi sembra troppo difficile, eh. La situazione. Anzi, guarda. Ne hanno ancora meno di prima. Cioè, sono più fasi, sicuro, però hanno meno vita sempre. Ok. Vieni qua. Ho ottenuto qualcosa di particolare con il... Col potere di Surtur. Corvi lì. Grazie. Perché se devi stare qua con me, al tuo punto... Dammi una mano. Allora, stai buona. Oh, 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 oh. Però le ho finite. C'è stata la finish. Lascialo stare! Come ho fatto a primarare uno? Che culo. Che culo. Mi sa che ho sbagliato il coso, lì. Ah! Ah! Fiamma di burrasca. Padre, vieni qui! Ecco perché è della vita, comunque. Vabbè. Vabbè. Così. Però mi farebbe ridere... Sarebbe una gran cagata, eh. Mi farebbe ridere se tipo... Il famoso Ragnarok che... Sarebbe quello che poi terminerebbe tutto. In realtà... È un modo di... Cioè, il nome del titolo. Non è un evento, il nome dell'evento. È il nome di lui. Pensaci. Ci presentiamo ad Asgard e poi arriva Ragnarok che spazza via ogni cosa. Odino non avrà nessuna speranza. Vinceremo noi. Groa aveva ragione. Groa non aveva predetto cosa avremmo sacrificato. Forse vedeva solo le cose importanti. Tutto questo funzionerà, vero? Stai dicendo che non è importante? Ah, non c'è come... Come zona, eh, comunque. La forza di Ragnarok cresce. Ehi, guarda quella rupe. Il terremoto è stato così forte da creare una spesa. Ah, ecco, come faccio. Altre forze di Odino! Oh, merda! Vogliono concludere il lavoro delle Valkyrie! Cos'è? C'è una cosa... Chi ha fatto? Una cacchia di riverna? Aia. Aspetta. Allora, facciamo prima un po' di loro. Ok. Merda. Ma è elettrica, uh! Ma cosa? Ah, uh! C'era un cosino di... Eh, di... Di... Di Dark Soul. Un nemico di Dark Soul. C'erano i cosi elettrici, i draghetti elettrici. Me li ricordo un po'. Draghi o viverne. Mi pare che fossero viverne, adesso. Mi ricordo la... La definizione, la differenza tra l'uno e l'altro. Ah, quindi ha rotto quel pezzo lì. Però, appunto, mi hanno aperto questo. Di qua, padre. Possiamo arrampicarci e tornare alla morte. E ci andiamo a prendere il corvo. Infatti l'avevo visto prima, ha detto... Ma che cacchia? Me lo fanno vedere e poi non mi dà niente. Hai combattuto molte guerre, è vero? Ma non hai mai avuto un alleato come Ragnarok. Invece sì. E la creatura non garantisce la vittoria. Giusto. Oddio, chi è che abbiamo avuto come alleato? I titani. I titani in generale. Cioè, erano i nostri alleati. Non era propriamente Ragnarok. Perché non ho visto neanche che cos'è. Ma... E' il corvo? Aspetta, io da lì ci ritorno, no? Sì. No, devo prendere il corvo. È qua. Come cacchio riesco a cosarlo? Maledetto. Eccolo lì. Sgodo. Finito. Preso, no? Era l'ultimo. Era l'ultimo, no? Occhio di odino. Uccidi i corvi. Finito. Posso andare a Nifleim? Possiamo andare a Nifleim e chiudere la questione corvi e chiudere la questione Nifleim. Possiamo cosare anche quelli. Prendiamo le casse che appunto saranno tutte quelle disegnate e poi... Sto scherzando, non possiamo andare a Nifleim. Dobbiamo andare a Nifleim però. Non possiamo andarci ma dobbiamo andarci. Ci sarà un qualcosa... Adesso appunto c'è andato... Mimir... Oh, c'è gente. C'è andato Mimir là, quindi... Suppongo che in un qualche modo ci possiamo andare anche noi. Oh, ma quello è caduto giù nella lava? Poverino. Bim! Via! Aspetta. Bim! Via! Ficcio un sacco a sto attacco qua. Non volevo fare questo. È tipo... Perché appunto vi ho detto... Stavo vedendo come... A per ridare bene le armi... C'è un appunto qua comunque. Non mi sembra aperto anche questa zona. Stavo guardando come... No, per ridare le armi... Poi vabbè. Far salire di livello le mosse, le abilità eccetera. E c'era tipo... Questo qua dell'R2 caricato, no? Bim! Prendi i lanci. Che poi praticamente... Tipo... Gli aimerier non fermeranno mai i loro attacchi. Ah sì, è ghiaccia. Cioè fa danno di ghiaccio tanto. Quindi... Se volete usare anche per quello. Però mi piace prendere e lanciare giù nel... Nel vuoto... Il nemico. E... C'è un appunto lì comunque. Waiyaù. Waiyaù. Non andiamo troppo in là, eh? A Terrascaro? O si deve aprire qualcosa? Un passaggio? Non fatemi andare là, eh? Perché c'è una bandierina? Sei silenziosa. Cioè... Lo sei sempre? Ah, forse è quello di Vanheim. Ora sembra diverso. Speravo che i miei giorni di battaglia fossero finiti. Speravo... Di non vedere mai mio figlio in guerra. Ciao! Invece... Aspetta. No, li facciamo arrendere noi. Che merda! Ma questo si è paralizzato qua? Forse era stanco. Sei buono te. Che cacchio vuoi fare, eh? Te qua? Dai. Ok. Bello perché ogni tanto c'è nuova voce nel bestiario. Cioè, ammazziamo qualcuno di nuovo. Fa strano, eh? Però... Sì. Ferma. C'è un appunto da prendere. Dobbiamo trovare l'appunto... A3. Che però non sembra essere qua. Forse dietro? Non è nuova sta zona. Non mi ricordo neanche più che cacchio. Questa è nuova. No, non è nuova. Sto scherzando. Ne varrà la pena. No, è proprio il passaggio che avevamo fatto. Contento? Ma non è questo l'appunto. Questi sono soldi. Neanche. Aha. Atreus, devi invitarmi a trovare l'ultimo. Che tu lo voglio o no, noi non ce ne andiamo da qua, senza l'appunto. Oh, Mimir. Ma t'ha appeso qua? Piccolo. Ma che t'han fatto? Ma raga, ma dov'è l'appunto? No, devo tornare alla fucina? No, non è la fucina. Sto scherzando. È in tutta st'area qua. Eh, niente raga. Non... Ho cercato ovunque. Non c'è niente. Cioè, sto cercando un... Che cacchie ne so. Ma non sento neanche il rumorino, magari il scintillio di qualcosa, niente. Perché poi comunque non è un artefatto. Il problema è che l'area è questa. Neanche le piane ero venti. Sono proprio le scogliere. Eh... Ho provato anche la fucina, ma non è la fucina. Non può essere la fucina. Quindi... Ci torneremo. Tanto c'è il non scoperto ancora. Quindi... Ragnarok aspetta il segnale. Anche gli eserciti di Hell. Quello grazie a me. La guerra è infine vicina. Non è che te sei... Udino, vero? No. Dove si va, fratello? Abbiamo del tempo prima dell'incontro al Tempio. Potrebbe essere la nostra ultima possibilità, padre. Hai faccende in sospeso? Niflaim.